I presidenti di Aniem, Teramo, Fiorenzo Polisine e Dapi Teramo, Alfonso Marcozzi, tornano a denunciare la drammatica situazione di stallo della ricostruzione. Questo anche a seguito dell'incontro con il sottosegretario della ricostruzione e crimi, con i dirigenti dei vari uffici speciali, con il sindaco di Teramo e con il presidente della provincia. Una situazione quantizzata in 12.000 pratiche da istruire, ma visto e considerato che ad oggi l'ufficio speciale di Teramo conta 12 tecnici, il risultato, mille pratiche a testa e considerando che un buon istruttore, nel voler essere ottimisti, istruisce una pratica in 15 giorni, vuol dire che con questi numeri ci vorranno ben 41 anni per istruire tutte le pratiche. Una situazione dunque assolutamente inammissibile. Sì, è sempre una frase fatta la situazione di stallo, ma la sostanza è che a distanza di due anni, a fronte di quell'incontro che c'è stato l'altra sera in provincia, e da questo punto di vista voglio ringraziare il sottosegretario per l'attenzione che ha posto al territorio, perché è stato due giorni a verificare e a controllare, ma ci troviamo davanti alle solite situazioni fatte, alle frasi retoriche, alla partecipazione, alla democrazia partecipata, problemi dal basso, l'ascolto. Oramai di queste cose non ne possiamo più, dobbiamo entrare nel merito, toccare con mano i problemi, cercare di affrontarle e portarle a soluzione. Se noi delle soluzioni abbiamo prospettate, in primis i tecnici, devono essere assunti immediatamente, al di là del riferimento che faceva sempre Rivera di interfacciarsi con i tecnici comunali, ma ci chiediamo dove stanno, dove sono e se sono in grado di approcciare il problema. L'altra, la semplificazione della procedura, cioè perdere tempo sulle sanatorie, magari sono situazioni abbastanza stupide e veloci, è un qualcosa che si può chiudere alla fine sotto la responsabilità del progettista. Il problema delle fattocchie burocratiche iniziali, li possiamo chiudere alla fine, quindi questo sicuramente può accelerare la procedura. E poi c'è un problema serio da parte delle imprese, il saldo degli stati di avanzamento dei lavori, sono imprese che per l'accoppiamento terremoto 2009-2016 sono anni che non riescono a incassare soldi. È un problema sociale perché c'è una ripercussione direttamente sui dipendenti, quindi è un problema che va affrontato in tempi abbastanza brevi, perché dal momento che si è lavorato possiamo aspettare un mese, due mesi, tre mesi, ma non possiamo aspettare anni per sanare una situazione che è dovuta all'impresa.